Il nostro cervello ha un maledetto bisogno continuo di sentirsi dire che va tutto bene e che sta facendo la cosa giusta. È per quello che un social media manager opererà pubblicando contenuti che continueranno a suggerire all'inconscio delle persone che quella è la pagina giusta da seguire e quando arriverà il momento di vendere qualcosa attraverso quella pagina il social media manager lo farà in modo che ad ogni passaggio la mente dell'utente sia rassicurata. Come se qualcuno le dicesse continuamente stai facendo la cosa giusta. Ad esempio clicca qui e potrai assicurarti subito il tuo posto a questo corso perché è a numero chiuso. Il passaggio dopo è probabile che ti dica ancora un passaggio e potrai rilassarti sapendo che il tuo posto al corso è prenotato e questo ti aiuterà a diventare eccetera eccetera. Cinque minuti dopo arriva una mail con una frase del tipo complimenti hai appena fatto il primo passo per cambiare la tua vita. È bellissimo averti tra noi e a breve riceverai tutte le informazioni per l'iscrizione che hai effettuato. Hai notato che tutta la proposizione che hai ascoltato era assolutamente in chiave rassicurante? Andrai a letto sereno sapendo che non ti hanno truffato. Questa è persuasione. Questa è un po' di più. Questa è un po' di più. Questa è un po' di più.